Quest'oggi vi parlerò di un giornalista napoletano, ma che è conosciuto soprattutto perché è stato un grande paroliere, un grande cantautore, soprattutto celebre per una canzone che ha fatto davvero la storia della musica e non soltanto quella napoletana, subito dopo la sigla. Svelo il mistero. Quest'oggi racconto la storia di Giuseppe, detto familiarmente Peppino, il cognome Turco. Nasce il 7 marzo del 1846 a Napoli. In quel periodo c'erano ancora i Borboni. Questo lo dico per farvi entrare immediatamente in quella che era l'atmosfera che ha visto crescere Giuseppe Peppino Turco. Da questo momento in poi lo chiameremo Peppino. La sua passione per il giornalismo, per la scrittura è molto forte, ma Peppino Turco è fortunato perché in quel periodo a Napoli ci sono tantissime riviste e tantissime pubblicazioni che permettono di scrivere a tutte le persone che ne hanno la capacità. Peppino Turco però è anche cagionevole di salute e questo per lui, tra virgolette, sarà probabilmente una fortuna. Ma dobbiamo fare a questo punto non un salto indietro, ma sviluppare un altro percorso narrativo. Ci dobbiamo trasferire infatti sulle pendici del Vesuvio. E' il 1870. Peppino Turco ha 24 anni. Ma non è questo che a noi in questo momento interessa, perché invece dobbiamo parlare di Ernest Emanuel Oblikt. E ha l'idea, proprio quell'anno, di costruire una funivia sul Vesuvio. Passano otto anni, è il 1878. Lui riesce finalmente ad ottenere le licenze necessarie. Ed ha anche la locazione per trent'anni dei suoli, dove poi dovrà operare. E' il 1880, ormai è quasi terminata. Proprio sul finire della primavera di quell'anno, a Castellammare di Stabia, si trova per motivi di salute Peppino Turco. E nello stesso opposto a Castellammare si trova, invece per trascorrere le ferie, Luigi Denza, che è il direttore del Conservatorio di Londra. Peppino Turco ha, insomma, la parola facile anche per fare amicizia e conosce quindi Luigi Denza. Fanno subito amicizia i due e vengono entrambi ispirati da quello che sta per avvenire, praticamente, sul Vesuvio. A quel punto si mettono insieme e decidono di comporre una canzone. Siamo al 6 giugno del 1880, sono le ore 17, quando c'è l'inaugurazione della funivia del Vesuvio. La prima al mondo, tra l'altro, la prima al mondo anche costruita su un vulcano attivo. Già allora si sapeva che era un vulcano attivo. In quel frangente e per quell'occasione Luigi Denza e Peppino Turco presentano la canzone dedicata proprio a questo evento e la chiamano Funiculi Funiculà. Il successo è immediato anche tra i presenti, tra l'altro c'è il sindaco di Resina, ossia la vecchia Ercolano, c'è il sindaco di Napoli, ci sono parlamentari, ci sta tantissima gente, tutti curiosi per questo viaggio inaugurale, dalla base del vulcano sino ad arrivare sulla sommità del cratere. Il brano è immediatamente orecchiabile, immediatamente coinvolgente, venderà un milione di copie praticamente dopo appena 12 mesi, tanto che indusse Richard Strauss a inserire questo brano Funiculi Funiculà con parole di Peppino Turco e musica di Luigi Denza nella sua Sinfonia dall'Italia. Il brano Funiculi Funiculà rese famosa la canzone napoletana nel mondo, questo grazie anche a Luigi Denza che era ovviamente il direttore del Conservatorio di Londra, grazie anche alle capacità pubblicitarie perché era un giornalista all'epoca di Peppino Turco. E con questa canzone molti ritengono che nasca la canzone napoletana moderna, proprio con Funiculi Funiculà. Successivamente Peppino Turco scrisse anche altre canzoni, le parole di altre canzoni che non ebbero ovviamente lo stesso travolgente ed eterno successo di Funiculi Funiculà, che ancora oggi si canta in particolari momenti di allegria e conclude molte feste all'insegna della musica napoletana. Scrisse o Telefono, oppure Wokjemir, o ancora Tarantì, Tarantella, oppure ancora Wokkerosa. Giuseppe Peppino Turco morì a Napoli, giovane tra l'altro a 57 anni, era il 14 ottobre del 1903, ma ci ha lasciato un testo eterno. Funiculi Funiculà, che fa iam, iam, ngoppi iam e iam. Funiculi Funiculà. A domani.